Bene, allora alcuni di voi le hanno già viste, quindi oggi ovviamente se ci sono delle domande perché il contenuto rimane comunque a un livello molto tecnico, affronteremo la questione delle versioni, degli aggiornamenti che dobbiamo fare a Windows e a tutte le componenti che il simulatore va a utilizzare e poi vedremo anche qui una presentazione per quanto riguarda le impostazioni per la parte grafica. Entrambi le presentazioni, come avevo detto a chi ha partecipato al primo corso, non sono la Bibbia ma sono uno strumento, come dire, una mappa che vi fa vedere che si può ottimizzare la configurazione grafica ci sono vari punti, un po' come il motore di una macchina, di un aereo, che possono essere messi, diciamo fatto un lavoro di fino per cercare di appunto migliorare. Questo avrà un impatto o potrà portare dei miglioramenti o addirittura dei peggioramenti in funzione anche del tipo di macchina che abbiamo. Però ci sono delle cose che sono dei tasselli abbastanza consolidati e quindi almeno cominciamo a prendere a tenere a mente tutti questi tasselli, questi mattoncini, in modo tale che se abbiamo un problema che magari si presenta a noi ma non ad altri, ecco magari usate la checklist per verificare se avete una macchina perfettamente aggiornata oppure qual è il livello di aggiornamento da cui partite in modo tale da confrontare con gli altri, diciamo, soci o gli altri utenti, insomma, di Reflect Simulator quando c'è un problema di data non succede, a me sì. Ah ma scusa, ma verifichiamo, tu che versione hai? Ma tu cosa stai usando? In modo tale da rendersi conto che se magari una cosa succede a voi non succede ad altri potrebbe essere legato anche alla mancanza o a un livello di aggiornamenti diversi. Non di rado, mi è capitato di aiutare qualcuno e magari abbiamo trovato che aveva i drive di invidia di 18 mesi fa, no? E quindi c'erano delle problematiche che ovviamente si potevano risolvere ma prima di tutto era bene portarsi a un livello di aggiornamento superiore. Allora, iniziamo quindi, proseguiamo con la presentazione, quindi ecco, più che implementare quello che c'è scritto sulle slide, che qualcuno potrà anche fare, eventualmente se vuole implementare, tenete a mente appunto che Fly Simulator si appoggia su tutta una serie di componenti software che abbiamo sul nostro PC e che quindi è importante andare a controllare che siano aggiornati. Allora, vediamo velocemente la checklist, quindi oggi come sapete è stato rilasciato l'aggiornamento, un piccolissimo aggiornamento che in teoria non avrà grossi impatti sulle funzionalità del nostro simulatore, se non che risolve dei problemi che in realtà abbiamo acquisito con il penultimo aggiornamento. Windows aggiornato, vedremo, è importante andare a controllare, vedremo come si fa se il nostro PC ha questi aggiornamenti installati, quindi se è un PC che è stato installato, avete comprato di recente, probabilmente alcuni di questi aggiornamenti non li troverete nel l'enco storico degli aggiornamenti fatti, perché sono già inglobati nella versione che probabilmente vi è stata installata sul PC, quindi se andando a vedere qual è la versione di Windows, vedete già che l'ultima versione, cioè la 20H2, con un numero che adesso vedremo qual è, di build, voi direi che siete a posto, i driver aggiornati sappiamo che in questo momento siamo la 46627, il portale per chi usa la realtà virtuale, quindi sono le altre informazioni che abbiamo sotto, quindi andiamo a vedere quelle versioni che stiamo usando, se effettivamente l'ultima è aggiornata e così via dicendo vedremo anche tutti gli altri parametri. Ecco, a volte il fatto che abbiamo gli aggiornamenti attivati anche in automatico non è detto che questi vadano a buon fine, quindi ci potrebbero essere dei problemi che a questo punto vanno analizzati e risolti, rimuovendo il problema per cui quell'aggiornamento che magari viene scaricato e poi non viene effettivamente installato, va risolto il problema che ne impedisce l'installazione, in modo tale da proseguire e avere quindi la macchina perfettamente allineata. ovviamente non entro nel merito di chi dice aggiornamenti sì e aggiornamenti no, tenete presente che noi non possiamo decidere di non aggiornare Fly Simulator, è qualcosa che avviene in automatico, di conseguenza mantenere una macchina aggiornata può aiutarvi a ridurre la quantità di problemi che dobbiamo gestire. Allora, parliamo subito del primo componente, quindi Windows 10 in questo momento presente sui PC sono presenti almeno tre versioni di Windows 10, quindi quando diciamo Windows 10, la versione di Windows 10 non è Windows 10, la versione di Windows 10 è la versione 1909, la versione 2004, la versione 20H2, oppure in alcuni casi il nome può essere 20H1 o 19H2, questi numeri che cosa sono? Indicano praticamente, quindi Microsoft come vi avevo spiegato nel corso base 1, c'è il martedì in cui rilascia gli aggiornamenti, martedì americano, in cui lascia gli aggiornamenti che vengono inviati sui PC di tutto il mondo, questo invio viene fatto a scaglioni, quindi in base a delle regole, quindi può succedere che il martedì partano gli aggiornamenti ma alcuni di noi lo ricevono e altri no, quali siano i criteri all'interno di questi algoritmi oggi non è dato sapere. Questi sono gli aggiornamenti minori, poi ci sono gli aggiornamenti maggiori, vuol dire importanti aggiornamenti che Microsoft rilascia per la nuova versione e tendenzialmente questo avviene due volte l'anno, come vedete 19H2 che cosa sta a dire? 1909 è stato rilasciato nel 2019 nella secondo semestre, quindi di solito intorno a ottobre e novembre, quindi noi abbiamo due periodi dell'anno tendenzialmente in cui vengono fatti gli aggiornamenti, uno è ottobre barra novembre, quindi fino a ottobre inizio novembre, quindi tenente quel 15 ottobre e 15 novembre, in quella zona avviene il secondo aggiornamento dell'anno, il primo aggiornamento dell'anno avviene tra metà maggio e metà giugno, quindi a breve che cosa uscirà? A breve uscirà il 21H1, quindi ce lo aspettiamo praticamente una volta passato il 15 di maggio, ogni giorno è buono perché arrivi questo nuovo aggiornamento ed è un aggiornamento che si chiama di major release, quindi è uno scatto di questa versione che abbiamo visto lì, come vedete dal 20H2 non c'è più un numero 2000 o qualche cosa, ma è stato unificato, cioè il nome in codice del progetto corrisponde alla versione che è in uso. Poi vi svelerò un segreto, che in realtà abbiamo quasi già tutti la 21H1 installata sul nostro pc, manca proprio piccole informazioni che di fatto poi andranno a attivare le funzionalità che sono già presenti sul nostro pc, non sono attive, sono lì che stanno dormendo. Per scoprire quale versione è in uso, si va su il tasto Windows, oppure si scrive qui, dove c'è scritto, scrivi qui WinWare, oppure Alt R, WinR, in questo caso scrive WinWare, appare questa maschera e notate qual è la versione in uso, 20H2, build 1902, 19042.928, perché questa è una macchina che è aggiornata appunto con tutte le patch che sono state rilasciate fino alla settimana scorsa. Quando questa build diventerà 19043.000, siamo passati alla 21H1. Questo qui, condividi e chiudiamo. Allora, si va su, vedete sì? Andrea mi confermi? Affermativo. Quindi, setting, scusate, io di solito per deformazione professionale odio le versioni nazionalizzate, perché come al solito quelle con cui gli sviluppatori sviluppano davvero funzionano sempre un po' meglio. Security, c'è scritto, qui vedrete cronologia degli aggiornamenti e andate a cercare gli aggiornamenti qua. Ci sono quelli qualitativi e quelli in termini di funzionalità. Questi aggiungono funzionalità, questi di solito migliorano le funzionalità che abbiamo installate. Quindi, va verificato se siano presenti. Se capita che magari state cercando un aggiornamento, provate a schiacciare check, cerca 9 aggiornamenti, se dice che non ci sono aggiornamenti, quindi qui il check l'ha fatto alle 8.04, non ha trovato aggiornamenti, la macchina è a posto. Se c'è un aggiornamento in corso da scaricare, lo vedrete qui così, se ci sono dei problemi, di solito, come dire, vi appare un tasto che dice riprova e provate a vedere se funziona. Se non dovesse funzionare, potete spostarvi sulla sinistra, da questa parte, in Windows Update trovate risoluzione dei problemi, qui inglese, e andate a cercare, e dentro la schermata risoluzione dei problemi, ecco qua, risolvi i miei problemi di Windows Update. Lancia il tecnico, diciamo, virtuale, che andrà a verificare se tutte le funzionalità del Windows Update sul vostro PC siano corrette. Qual è il caso classico in cui le cose non vanno? Ha iniziato a scaricare un aggiornamento, l'ha finito parzialmente, i file si sono corrotti perché magari è stato spento il PC in modo brusco, eccetera, eccetera, tutta questa serie di tipologie e di problemi li può risolvere, quindi magari nel giro di pochi minuti siete in grado anche di risolvere il problema e quindi completare quello che è l'aggiornamento. Quindi qui abbiamo visto come verificare che aggiornamenti. Stessa cosa, se vogliamo sapere che tipo di macchina abbiamo, andate in, sempre cliccando su il menu, impostazioni, vi si apre la schermata, andate su Home se non siete in Home, System, in fondo c'è scritto Informazioni, About, per chi ha la versione in inglese, e qui sotto avete, ecco la release che avete installato, Windows 10 Home o Professional, 20H2, installato quando, la versione che state utilizzando, e guardate qua sotto c'è un altro oggetto. Oggi non vi sto a spiegare che cos'è perché ancora è a livello sperimentale, tenete conto che Microsoft, oltre a questo numerello, dopo l'estate ha introdotto anche un secondo oggetto. È un qualcosa, nel caso in cui vi non riusciate a fare un aggiornamento, potete andare su questo indirizzo, inserire il numero dell'aggiornamento che vi sta andando male, di cui avete bisogno, eccetera, eccetera, potete scaricarlo sul PC e provare a eseguirlo anche manualmente. Gli aggiornamenti che servono, se avete la versione 10, quindi non volete passare, ricordate che è facoltativo passare alla 2004, la 20H2 e domani alla 21H1. Quindi dovete proprio decidere voi, perché c'è scritto opzionale, non è obbligatorio. Quindi se decidete di passare di release, quindi se siete ancora fermi alla minima, che è la 1909, vi troverete certi aggiornamenti. Se avete già fatto la migrazione alla 20H2, vi troverete una lista diversi che sono legati a quel tipo di aggiornamento. Come vedete, la 1391 è uscita la settimana scorsa e il giorno dopo, se non ricordo male, sono usciti anche gli aggiornamenti dei drive di NVIDIA. Come vi dicevo, se non trovate gli aggiornamenti, non sono installati, dovete provare a scaricarli da soli, potete andare sul sito Microsoft, Microsoft Catalog, scrivere qui qual è l'aggiornamento che vi serve per Windows 10 64 bit, scaricare il tasto download, lo troverete in locale e poi provate a eseguirlo. Bene, fino a qui potremmo dire che abbiamo tutto ciò che ci serve per quanto riguarda Windows 10. Altro elemento importante sono i drive grafici. Ora, qual è il miglior drive grafico che possiamo usare? Come dico sempre io, quello che funziona meglio, non è detto che sia l'ultimo, soprattutto chi come me utilizza i visori, ha già capito che chi sviluppa la parte di VR non sta con l'ultimo driver aggiornato, ma sta qualche drive indietro. Anche se devo dire che ultimamente stanno cominciando davvero a lavorare molto bene. Come vi ho detto, Microsoft rilascia gli aggiornamenti per Windows 10 il secondo martedì del mese, il Tuesday update si chiama. NVIDIA non ha mai fatto un annuncio, però vi faccio notare che ultimamente questi aggiornamenti li fa tendenzialmente due volte al mese, uno intorno alla metà del mese e uno verso la fine del mese, non è il 15, non è il 30, lo fa il 14 o il 16, il 29 o il 30 come vedete dalle date che ci sono qui. Speriamo non riduca ulteriormente questa frequenza. Al momento siamo alla 46627, è la stessa versione indipendentemente dalla versione di Windows che stiamo utilizzando. Come facciamo a capire che versione stiamo utilizzando? Di nuovo aprite la barra dove c'è NVIDIA, pannello di controllo, adesso si aprirà il pannello di controllo, insistiamo, ok eccolo qua, è particolarmente lento è diventato questo pannello di controllo. Andate su System Information, quindi qua in basso, e andate a leggere, vedete qual è la versione che state utilizzando, è la 46627, benissimo, sulla base di questo almeno partite da un dato certo su quello che state utilizzando. Poi vendremo a vedere successivamente il discorso dei parametri, lo iconizziamo e andiamo avanti. Scusa Daniele, stavo guardando, c'è una versione nuova di NVIDIA. E beh, sai che purtroppo si rincorrono, quindi come vi stavo dicendo, speravo che arrivassimo almeno al 15 invece no. Quindi come dire, una serie di oggetti sono a livello basso del sistema operativo. Alcuni oggetti stanno appoggiati al sistema operativo, quindi la gestione del VR, la Mixed Reality Portal, è un componente, come possiamo dire, che si affianca a Fly Simulator, cioè entrambi hanno bisogno di Windows, ma poi tra di loro possono cooperare e arrivano tramite diciamo i marketplace o i portali. Poi vedremo anche qui il discorso del OpenXR di nuovo come deve essere aggiornato, modalità game mode, cioè questa è una funzionalità del sistema operativo, come si attiva o si verifica? Tasto Windows, impostazioni, cercate game, eccolo qui, gaming, cliccate su gaming, andate a guardare la modalità di gaming e qui dovete mettere, allora, se avete, quando ci sarà chi utilizza il VR, in alcuni casi è consigliato che sia off, se non usate il VR, il consigliato è messo a on. Che cos'è questo oggetto che si chiama game mode? Praticamente andare a indicare che state utilizzando il PC per usare dei videogiochi, di fatto rallenta tutte quelle attività che non sono fondamentali per il gioco, quindi tutte quelle applicazioni che magari girano, che non so, Whatsapp, vengono rallentate, quindi se hanno bisogno di fare delle cose, Windows gli dice stai calmo, l'antivirus vuole partire e gli dice stai calmo anche tu, perché state facendo una sessione di gaming che chiede tantissime risorse, quindi sia la CPU sia la GPU. Questo è un primo elemento, ed è di Windows, non fa parte di altre componenti del sistema, come vedete non c'è un tasto che conferma che va bene, il fatto di averlo cambiato automaticamente è un'impostazione che rimane lì. Che altro? abbiamo detto display, allora con le nuove generazioni di drive della scheda video, quindi se avete i drive aggiornati, altrimenti non funzionerà, se andate su monitor, in basso qua trovate impostazioni grafiche, cliccando su impostazioni grafiche appare, se avete i drive aggiornati, questa funzione che si trova sempre in quella posizione, si chiama accelerazione grafica, schedulazione dell'accelerazione grafica, che cosa vuol dire? Riduce, cioè di nuovo fa sì che la scheda grafica abbia priorità su tutto quello che sta girando sul PC, in modo tale che appunto se state utilizzando un'applicazione come Fly Simulator che ha bisogno di tantissime risorse, e lo vediamo qua in basso, quindi per dire che Fly Simulator è una di quelle applicazioni che deve avvantaggiarsi ad avere priorità nell'uso della scheda grafica nel momento in cui è lanciato, dovete andare qua, fare browse, cercare dov'è Fly Simulator.exec poi vedremo come si trova, aggiungerlo, andare dentro l'icona, selezionare opzioni e dire che volete il massimo delle prestazioni, quindi non deve decidere Windows, non deve usare il Power Saving, deve usare la scheda e la scheda deve correre come un fulmine di guerra, quindi va messa questa impostazione, quindi nel mio caso c'è il VR, c'è anche il Splane che è l'altro simulatore che utilizzo. Quindi questa è di nuovo un'impostazione di Windows, che però si attiva se avete i drive aggiornati di NVIDIA o AMD nel caso chi utilizza schede Radeon all'interno del sistema. Bene, allora chiudiamo Windows e andiamo giù. Quella che si chiama X è quella parte che vi ho fatto vedere, pianificazione GPU con accelerazione hardware è la stessa cosa che vi ho fatto vedere io in italiano, quindi chi di voi utilizza la versione in italiano si troverà una pagina di questo tipo. Questa funzionalità perché sia presente come impostazioni ha due requisiti, uno ve l'ho già detto, dovete avere i drive aggiornati almeno rilasciati nell'anno 2020, se non ricordo male. L'altra è che la vostra versione di Windows sia almeno la 2004, quindi se siete rimasti alla versione 1909 che è la minima per Fly Simulator, questa funzione, questa modalità che dice la GPU ha priorità su tutto l'hardware che c'è sulla mia macchina, non la potrete attivare. Siccome porta dei benefici significativi in termini di qualità delle immagini piuttosto che dei rallentamenti che può essere gestito, è opportuno farlo. Vi chiedete, Microsoft ha cambiato l'indicazione della versione minima, ma neanche per sogno. Se andate sul loro sito c'è scritto 1909. Al netto del fatto che certe cose non le potrete fare. Andiamo avanti, per i più smanettoni eventualmente questa impostazione si può verificare o modificare anche usando il registry. Cosa vuol dire? Se avete questa schermata non vi serve andare a fare questa, ok? Perché fanno esattamente la stessa cosa. Quindi se volete verificare se il valore è 2, l'impostazione è corretta a livello di registro. Ho lasciato il link dove c'è una guida di un tutorial dove viene spiegato in modo anche più dettagliato che cos'è, perché funziona, che miglioramenti può dare, eccetera, eccetera. Il VR lo vediamo poi dopo, sull'altra presentazione. Questa ancora sul VR. Può capitare che magari qualcuno di voi ha deciso, si è convinto, ah sì, passo alla 20H2. Ma l'aggiornamento non funziona. Provate in tutti i modi, eh, vi dà sempre errori, eccetera, eccetera. Questo può accadere, e altrimenti Microsoft non avrebbe neanche sviluppato un assistente per fare l'aggiornamento. Perché? Perché la Microsoft ogni tanto sbaglia. Sembra impressionante oramai. Può succedere che arrivi un aggiornamento sul PC, questo aggiornamento crei l'aggiornamento stesso dei problemi e da lì in avanti non si riesce più a aggiornare il PC. Perché appunto è rimasto in coda un aggiornamento e finché questo non passa, quello successivo non può andare avanti. Perché appunto è una sequenza di operazioni che devono essere fatte. A questo punto non c'è soluzione, ora installate il PC e qualcuno ovviamente lo ha fatto, o se no scaricate dal sito Microsoft l'assistente, questo è quello che viene fuori, quindi un assistente che fa tutta una serie di operazioni, verifica se la cosa si può fare, lui dice guarda sono pronto, l'aggiornamento si può fare, andrà sicuramente bene, si iconizza, voi ve lo scordate, potete anche continuare a lavorare, quando ha finito dice ho finito, dovrei riavviare un po' di volte, esattamente quante non si sa, lo lasciate lì, nel mio caso un portatile anche abbastanza potente, ci ha messo tre ore per fare gli aggiornamenti, quindi Windows 10 21 H1 è in arrivo, noi oggi come vi ho fatto vedere siamo alla 9.2.8 e probabilmente alcuni di voi a breve lo riceveranno, perché la nuova sarà alla 19.0.43. Ok, quindi qui abbiamo visto Windows, riprendiamo i concetti magari un po' più in dettaglio adesso sulla parte fly simulator, diciamo scheda grafiche, cerchiamo anche magari di andare un pochettino più veloce. Allora, vediamo performance tuning, questa è una guida che sto di nuovo continuando ad aggiornare, quindi potrebbe anche essere che vedrete qualche slide che prima non c'era. Allora, quello che io vi sto facendo vedere, l'ho fatto sul PC, quello che sto usando adesso per la presentazione, la macchina che io ho, chi ha GeForce lo può fare e verificare sulla sua, ovviamente io ho una 2080, non una 2080T, ho la 46627, quindi non il drive che è uscito questa sera, ho una CPU che non è anche un film di guerra perché arriva al massimo a 4.1 GHz quando è in modalità turbo, 32 GB di RAM e lavoro con un monitor a 4K. Non sto usando la versione del driver, tenete sempre presente che esiste una versione sperimentale del driver che si attiva e lo può fare chiunque cliccando qua, in questo momento non è consigliabile, andremo semplicemente ad aggiungere complessità a complessità. Le versioni come vi ho già detto di drive che sono disponibili, potete andare sul sito di Nvidia e eventualmente cercare la vostra scheda. Per chi ha una RTX serie 2, serie 3, più o meno quello che vi sto dicendo va già bene. Quindi la versione da verificare l'abbiamo già vista prima, la modalità giochi va attivata, la modalità bassa latenza va attivata, ovviamente se non lo fate non è che il simulatore non va, andrà un po' meno bene, quindi qua è quando si vogliono entrare un più sul merito. Elemento importante, il driver, come avete visto, se lo aprite vi dà la possibilità di andare a migliorare o a indicare delle impostazioni per i parametri 3D, ci sono delle impostazioni globali, come vedete qua, e delle impostazioni che vanno a sovrascrivere le impostazioni globali specifiche per un determinato programma, quindi se trovate il simulatore lo selezionate dalla lista, se non lo doveste trovare fate add, lo andate a cercare, l'eseguibile dove si trova, e quindi browser, andare a cercare il programma lo aggiungete. Dopodiché implementate la guida che vi ho dato io sotto, ne troverete tante altre in rete, lasciate così come adesso, provate la mia, provatene altre, vedete quando trovate insomma una soluzione che già vi può andare bene. Quindi come vedete rispetto alle impostazioni globali, che sono quelle che trovate quando ho scritto così, uso le impostazioni globali, vuol dire che le ho messe qua e saranno generiche per qualsiasi software che gira sul mio PC, se invece uso diversi programmi, voglio avere delle caratteristiche specifiche per i diversi programmi, allora dovete andare a impostarle in quest'altra schermata. Qui sto facendo delle sperimentazioni, per esempio sto provando questo parametro altamente discusso, se lasciare i frame rate fissi, o mettere un massimo, o lasciare fare la scheda, eccetera eccetera. Ho notato che ci possono essere dei miglioramenti, ovviamente qui siamo ulteriormente affinando la configurazione. Quindi si va sul driver, è possibile, e troverete varie guide, tra cui la mia sarà una delle tante insomma che potete seguire, che vi dà dei consigli su come migliorare le performance con un'applicazione tipo il 2020. Qui è un ricordo che è solo per utenti esperti, significa andare nella directory dove c'è salvata la configurazione dei parametri della scheda video, del simulatore, se avete comprato sullo store si trova in questa posizione, se l'avete installato da Steam si trova in questa o nella cartella che avete indicato quando avete fatto l'installazione. Comunque il file si chiama usercfg.opt, potete, consiglio di fare una copia prima di modificarlo, aprendolo, andate a cercare sotto la sezione graphics, non graphics.wr che è ancora più in basso nel file, e andando a mettere questi zeri al posto degli uno, che non sono modificabili dal pannello grafica generale, eccetera eccetera, quindi va proprio fatta a manina, questa modifica può portare tranquillamente anche un 15 frame in più. Ovviamente ognuno di questi parametri toglie qualcosina la grafica, ma questa qualcosina in molte situazioni è totalmente, non è percepibile per l'uso del simulatore, però il vantaggio invece sì, perché avete più fluidità, maggior performance, eccetera eccetera. Consiglio di farlo soltanto a chi sa muoversi sui file di configurazione, per tutti gli altri usate tranquillamente le impostazioni che vi suggerisce Microsoft, usando bassa, molto alta, ultra, eccetera, che va già bene anche così. OpenXR, per chi utilizza il visore, è uscita la 106, fino a qualche mese fa lavoravamo con la 105 in beta, adesso la beta è la 106, la 105 è quella consolidata. Ancora oggi non è ben chiaro quale deve essere utilizzata, alcuni gruppi dicono di mantenere la beta perché gli sviluppatori stanno lavorando sulla 106, altri trovano che alcune cose siano più consolidate e stabili con la 105. L'importante è capire come si fa, riconoscere quella che state utilizzando ed eventualmente andare a modificare la versione che vi serve. Come si fa? Per chi usa il visore, si apre la schermata OpenXR developer tool che deve essere stato precedentemente installato, si attiva questa funzionalità che vi faccio vedere, io ho la versione 106, se vado qua e dico che voglio la versione ufficiale, non la beta, torno indietro, eccola qua, vedete, 105, ci mette un po'. Quindi 105 è la versione ufficiale, quella supportata, se c'è un problema, Microsoft vi dà retta. Se siete sviluppatori dovete usare invece la 106, che vuol dire attivare questa, si torna indietro e avete la 106 e la 106 ha delle cose in più, quindi in questo momento dobbiamo giocare con queste funzionalità. Che cos'è il Customer Render Scale? Poi lo vedremo, questa è la modalità di scalare all'interno dei nostri visori sul VR. Anche qui il valore consigliati sono 70, 80 o 100, poi vedremo quando usare uno e quando usare l'altro. Diciamo che se vogliamo un VFR, cioè ci piace guardare fuori dal finestrino e avere un cruscotto ben definito, quindi dove si leggono persino le scritte sui tasti, va messo 100. Se usiamo un liner dove la grande maggioranza delle cose ormai le facciamo abbastanza in automatico, nel senso che il pilota automatico fa di più, guardare fuori e guardare bene uno scenario in realtà ci interessa relativamente perché siamo a fly level 240, possiamo tranquillamente portarlo a 70, ne migliora moltissimo le performance del nostro visore e la qualità non la noterete neanche. Ok, quindi questo è il modulo OpenXR, che è il modulo di gestione del visore che viene utilizzato da Fly Simulator 2020. Che cosa bisogna fare? Allora, il preview va attivato, quindi quel preview è quell'anteprima di cui abbiamo detto, cioè usiamo la versione beta dell'OpenXR, lo scala rendering in funzione di quello che dobbiamo utilizzare, fatto su OpenXR, a livello di gioco, cioè nelle proprietà grafiche del simulatore invece andremo a mettere un valore 80 o in funzione delle tipologie di volo che a noi piace fare, quindi quando usiamo del liner invece andremo a scegliere un parametro diverso. Come si controlla la versione l'abbiamo appena visto in tempo reale. Quando si utilizza quindi il VR, si seleziona grafica, pagina VR, non quella PC ma pagina VR e qui andiamo a ridurre a 80 il valore di render scaling, qui i valori consigliati sono 60, 70, 80, non usate 100 perché non solo andate a pesantire la scheda grafica inutilmente ma addirittura in alcuni casi i visori potrebbero addirittura scaldare la parte che effettivamente sono dei monitor e quindi andrebbero anche a poter creare un po' di fastidio. Quindi questi sono i valori consigliati più o meno da tutti quelli che stanno facendo questo tipo di sperimentazione. Non ci sono solo questi valori, i valori sono molti di più, quindi questa è una buona configurazione, l'ho provata anche sulla mia macchina, va abbastanza bene. Se avete una macchina con qualcosa di più, che può dare qualcosa di più, provate una volta provato alla prima, che funziona bene, provate eventualmente a fare anche voi un po' trovare la vostra miglior configurazione. Se avete una configurazione che deve lavorare sia in 2D sia in 3D, anche qui ho provato e sperimentato che insomma questa è una buona configurazione che va bene per chi utilizza sia il 2D che il 3D. Purtroppo al momento non c'è la possibilità di dire a Fly Simulator, usa questa impostazione del drive se lavori in 2D e usa quest'altra se lavori in 3D. Dobbiamo trovare un compromesso, quindi se volate VFR tendenzialmente poche ore e usate il visore, magari preparateli a fare configurazione per il VR. Se lavorate prevalentemente senza il VR, quindi solo in 2D, perché magari fate il liner e gestire la maschera non solo è sconsigliato per più di due ore, ma è anche poco utile, perché godreste poco della funzionalità magari degli scenari e a quel punto magari pensate di adottare una configurazione mistra. Il portale, come si fa a capire qual è il portale che avete installato? Di nuovo andate nel motore di ricerca, fate store, cercate Microsoft OpenXR installato, qui troverete la versione installata. e vediamo se c'è Mixer Reality, eccola qua. Questa è la versione installata sul mio PC. Verificate anche sul vostro quello che c'è. Ecco, questi sono gli aggiornamenti di questa settimana che arrivano, come vedete non arrivano con Windows 3D, arrivano da quest'altra parte, tramite il portale Microsoft. Allora, qui dentro troverete spesso questi plugin che sono importanti, perché sono quegli oggetti che vi consentono di collegarvi alla rete, all'infrastruttura Microsoft del 2020. Quindi il plugin è importante, identità sì, perché verifica la vostra licenza se è a posto, altre cose per il 2020, qua non ne vedo gli aggiornamenti di oggi. Quindi diciamo che potrei anche fermarmi qua. Quando si usa col 2020 il visore, i parametri migliori, quindi la migliore esperienza, la qualità, di fatto tra mettere alto, altissimo o basso non cambia granché, è 720p la risoluzione dei visori. Quindi impostando questi parametri spariscono tutte quelle sensazioni di bordo scuro, schermata che si frizza per qualche secondo, eccetera, eccetera. E la qualità in realtà non è cambiata, chi c'era il visore vi assicuro, fate le sperimentazioni, non vi accorgerete della differenza, se non che sta migliorando ed è molto più fluido. Quindi dal punto di vista grafico uguale, dal punto di vista prestazionale decisamente è un miglioramento dal punto di vista qualitativo. Per chi utilizza le cuffie integrate sul visore, siccome non gestisce alcune funzionalità, ci sono una serie di suggerimenti che dicono di disabilitare la funzionalità di suono spaziale all'interno del 3D, del suono 3D che vediamo all'interno della nostra schermata. Il suono 3D delle cuffie è reale, quando un aereo vi passa sotto, se percepite che il rumore di un aereo sta passando sotto piuttosto che sopra, a destra e a sinistra, se magari sta rullando su una taxi. Per quanto riguarda il traffico, qui tendenzialmente rispetto allo stall default che è presente sul simulatore, suggeriscono di ridurre tantissimo, magari lasciando appunto le automobiline un numero maggiore, ma di non tenere questi valori ai lavori default, quindi che mi sono ricordo male è 50, addirittura in alcuni casi 100 o 200 come macchiniera. Questa funzionalità è altamente raccomandata, ma è poco documentata e effettivamente vi posso assicurare che l'ho provata e porta dei vantaggi. Chi utilizza il visore? Allora, andando a mettere questa chiave, si alleggerisce di tanto tutto il motore che gestisce il VR. Questo lo rende di nuovo più smart, più reattivo su quello che andiamo a fare. Siccome la nostra applicazione è Fly Simulator, è un'applicazione a 64 bit e lo utilizziamo prevalentemente con questo tipo di applicazione, aprendo il registry, si crea questa chiave, si lascia a zero il valore, si riavvia il PC e il gioco è fatto. Quali sono quindi le raccomandazioni che avevamo visto per quanto riguarda i famosi due parametri, quello che andate a modificare qua, allora vediamo dove era la schermata, lo vediamo qui, vediamo se ce l'ho aperto qui, ok. Allora abbiamo detto questo Customer Render Scale è l'OpenXR che vedete qua, quindi se volate prevalentemente, quindi volete una situazione bilanciata mettete 70 qua e 70 all'interno del simulatore, vediamo se ho la schermata, eccola qua, questa qua, ok. Qui dentro mettete 70 e avete una buona soluzione, quindi molto performante, senza scatti, senza bordi neri, la qualità è buona e vi divertite come dei pazzi, non avete grossi problemi. Se invece volete una cosa più specifica, cioè tendenzialmente volate in alta quota, quindi la strumentazione, un glass cockpit, quindi di un liner e quant'altro, le raccomandazioni suggeriscono di andare invece a optare per una situazione diversa, quindi 80 dentro il simulatore, 20-20 e 60 su OpenXR. Se invece usate aerei di aviazione generale, quindi dove si vola abbastanza vicini allo scenario e quindi si apprezza, oppure un elicottero tanto per dire, visto che ultimamente va molto in auge, la soluzione migliore per chi ha un VR è dentro 20-20, vedete addirittura 60, ok, quindi portate a 60 la configurazione del VR, del VR, non della scheda grafica per il desktop, diciamo, la parte VR, quindi nella schermata che avevo fatto vedere prima, che è questa, ok, nella pagina VR andate qui e mettete 60. mentre su OpenXR andate qua e mettete 100, come vedete è l'impostazione che uso io, perché mi piace per il momento, diciamo che mi diverto sulla parte VR, quindi lasciate questa impostazione, le salvate e avete un'ottima visualizzazione della strumentazione e altissimi dettagli dello scenario, quindi possiamo volare bassi e divertirci a guardare lo scenario. Un ultimo parametro che sta, diciamo, anche qui, era già presente nelle prime versioni dei vari gruppi, ma vedo che sta tornando auge, è quello di andare a impostare il simulatore per dire che deve girare come amministratore e devono essere disabilitate le funzioni di ottimizzazione quando l'applicazione gira a schermo pieno. Questo si fa andando nella pagina, nel caso di Steam, io ce l'ho installato sul disco E, quindi nella libreria si cerca flysimulator.exe, tasto destro, proprietà e andate a verificare se avete già impostato questi due parametri, quindi disabilitare le ottimizzazioni InfoScreen e fare in modo che il flash simulator giri come utente e amministratore. Questo può di nuovo portare a avere meno problemi rispetto a quelle che state incontrando o chi li sta incontrando, insomma. Ok, bene, siamo partiti un po' in ritardo, ma siamo arrivati al termine anche di questa presentazione, io continuerò a mantenere aggiornate queste presentazioni, non le pubblicherò più su WhatsApp, sappiate ogni tanto, magari andare a guardare sul forum e vedere se c'è una versione più aggiornata, questa è la 0.1 draft, a breve pubblicherò dei nuovi aggiornamenti, tendenzialmente cercherò ogni mese di dare qualche contributo in più, qualche aggiornamento in più rispetto agli aggiornamenti che rilasciano e eventualmente a problemi che mi capita di risolvere per altri soci e quindi metto qua un po' la condivisione della conoscenza e dell'esperienza che sto facendo anche con alcuni di voi, in modo tale che possano tornare utili a chi magari poi il problema si presenta per la prima volta. Scusa Daniele, quindi se ho capito bene, troveremo gli aggiornamenti sempre nello stesso posto? Sì, io tolgo quella vecchia e metto quella nuova. Ok, grazie. Vi ricordate che se avete una Nvidia potete attivare GeForce Experience, non dovete essere degli scienziati, l'hanno già fatto loro per voi, attivate, andate su Fly Simulator, poi vi dice dove trovate poi il simulatore installato, io siccome ne ho due coppie, allora questa è la versione. Quindi, lasciate fare a Nvidia, Nvidia sa che macchina avete, quindi gli dite che qual'era la risoluzione che volete usare del monitor, quindi nel mio caso voglio usare un monitor a 4K, perfetto. E dice, guarda se vuoi farlo in modo ottimale vai qua, ok, che peccato, pensavo di poterlo mettere in fondo, e voglio usarlo in full screen, oppure in finestra, in termini di configurazione, oppure gli dice, vabbè, mettiamolo in 2K che è raccomandato, lui dice usare, oh perfetto, mi dice che la configurazione ottimale è questa, perfetto, fate fare Apply, ok, tac, vi imposta il simulatore, sì, magari non in finestra perché a me non piace, facciamolo così, applica, ok, full screen, applicate i parametri, come vedete non è uno dei quattro modelli che Microsoft suggerisce, però, diciamo che gli sviluppatori di, ottima, sì, applica, fatto, gli sviluppatori di invidia hanno fatto i loro test e hanno tirato fuori questa configurazione, provatela, se vedete che insomma vi dà i vostri 40-50 frame, tenetela che va benissimo, ok, così come potete trovare tante altre guide che vi dicono la stessa cosa, qui è facile, e siccome lo fa invidia, posso dire che a tutte le persone che l'ho suggerito poi si sono trovate anche abbastanza bene, non la vieta, poi anche ognuno di voi si faccia la sua personalizzata della configurazione, oppure adotta quella di invidia, ma magari fa, dice vabbè, ma proviamo un pochino in più, magari perdo 5 frame, ma guadagnate in qualcosa, tipo il terreno, i dettagli, le soluzioni vi piacciono di più, ecco, vi sconsiglio di allontanarvi da optimal, più di 3-4 barrette, perché poi qui davvero cominciate a scendere dei frame che potrebbero arrivare sotto i 20-30, quindi vi trovereste con un'esperienza un po' fastidiosa. Se dovete usare il VR, non affidatevi a questo programma, perché non è la più palle idea che voi state usando un VR, quindi in questo caso seguite magari meglio le guide che vi ho dato e usate quei parametri perché è decisamente meglio, questo va bene solo per il 2D, quindi senza l'uso del visore. Grazie. 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 Grazie.